Un buon inizio di giornata a tutti voi, bentrovati al primo appuntamento con la nostra informazione del mattino. Riflettori puntati accesi ancora sul palazzo di città a Campobasso, il Consiglio Comunale ieri si è riunito per la prima volta, saprete il risultato con l'elezione del Presidente del Consiglio Giovanni Varra, primo degli eletti in Fratelli d'Italia e dunque uno dei due consiglieri passati dal centrodestra alla coalizione progressista. Un passaggio che ha fatto gridare allo scandalo il centrodestra, restiamo basiti dell'accaduto, dicono i consiglieri della coalizione, sentiamo il resoconto dell'accaduto con tutte le reazioni nel servizio di Enzo Luongo. Il centrodestra in Consiglio Comunale insorge contro i due consiglieri che hanno deciso di allearsi con il centrosinistra a Campobasso. Prendiamo atto, scrivono gli eletti in una nota congiunta, che c'è chi in barba alla volontà popolare ha deciso di diventare stampella di un centrosinistra martoriato e falcidiato dalle faide interne. I consiglieri ricordano che Giovanni Varra e Antonio Madonna avevano deciso dopo il primo turno, davanti a foto e video, di firmare un documento di fedeltà ad Aldo De Benedittis, ma oggi si rimangiano parola e firma. Campobasso ho sempre detto che merita di più, i campobassani meritano una vera politica non un accattonaggio di questo tipo. Avevo proposto qualche ora fa che ci fosse una delegazione trattante che potesse guardare al governo della città in maniera trasparente senza dover rinunciare a quelli che erano i nostri propositi, quello che noi avevamo chiesto ai cittadini. Invece addirittura la cosa che mi ha sorpreso particolarmente è una dichiarazione in aula che addirittura oggi condividono anche il programma della Forte. Questo mi ha lasciato sicuramente stupito. Penso che ognuno debba poi rendere conto alla propria coscienza e poi al proprio elettorato. Non ritengo che il lunedì con il segretario regionale del partito faremo un direttivo per prendere atto che qualcuno ha deciso di non fare un percorso politico con noi. Ribadisco il concetto, ho detto sin dai primi minuti che ero stato informato in qualità di capogruppo che ero stato disegnato a questo consiglio che è un elemento che non voleva più con noi fare questo percorso. Non evito giudizi perché non è nel mio stile. Credo che poi in aula ci saremmo dei dichiarimenti e cominciremo a lavorare per la città ognuno dal proprio ruolo che gli elettori ci hanno demandato. Logicamente il controllo proporzionale è maggioranza. Su maggiorità la Forte ha vinto il ballottaggio, ci avremo molto da chiarire. Gli auguro un buon lavoro nel bene della città di Campobasso, ma noi saremo vigili a fare opposizione all'interno. La Fratella d'Italia è stata chiara dall'inizio che non avrebbe fatto inciuci e non avrebbe fatto da stampella la Forte. Quindi chi ha fatto questa scelta si prende le responsabilità. Noi faremo un'opposizione forte per il bene della città, saremo costruttivi e chiaramente andremo avanti con il nostro programma elettorale che abbiamo condiviso con il candidato sindaco Aldo De Benedittis. E parliamo di università perché è stato emanato il bando per l'anno accademico, per il prossimo anno accademico che contiene tutte le informazioni e i requisiti d'accesso al corso di laurea in scienze tecniche e psicologiche. Le informazioni sono anche disponibili sul portale dello studente fino all'11 settembre. Sono confermati 130 posti disponibili, di cui 5 riservati agli studenti extracomunitari che risiedono all'estero, tutti i particolari nel servizio di Francesco di Giacomo. L'offerta formativa dell'Università degli Studi del Molise dal corrente anno accademico si è già ampliata e arricchita di sei nuovi corsi di studio, due new entry fra le magistrali, quattro fra le triennali. Di quest'ultime ha acquisito un'importanza rilevante il nuovo corso di laurea in scienze tecniche e psicologiche, che viene riattivato oggi con le stesse modalità dello scorso anno. Il percorso formativo mira a fornire agli studenti e alle studentesse che dovessero rientrare, previo superamento di un test per l'accesso programmato locale nella graduatoria di merito, le conoscenze di base necessarie che caratterizzano i diversi settori della psicologia, acquisendo competenze sui metodi di indagine scientifica, sui principi tecnici di base e sulla misurazione dei fenomeni psichici relativi al singolo, alle relazioni interpersonali e ai gruppi nel ciclo di vita, con particolare riferimento ai contesti socio-relazionali e dell'apprendimento. Specifica attenzione sarà rivolta anche alla formazione di base per l'applicazione di norme e per l'adesione a condotte eticamente orientate nell'esercizio della professione di psicologo, con il richiamo ai principi enunciati nel codice deontologico degli psicologi italiani, come testimoniato anche dal videomessaggio di presentazione del corso diffuso dallo stesso Ateneo e contenente il commento della dottoressa Alessandra Ruberto, presidente dell'Ordine degli Psicologi del Molise. Questo percorso di studi, inoltre, viene implementato per il prossimo anno accademico anche grazie alla sinergia e all'integrazione della formazione universitaria con le strutture cliniche, socio-educative e sperimentali presenti nella regione molise e permetterà l'acquisizione di competenze e conoscenze avanzate per la formazione di professionisti in grado di cooperare in equip multidisciplinari che operino in ambito educativo, rieducativo, clinico e sperimentale, come fa sapere anche il dottor Angelo Malinconico, psichiatra, criminologo e già direttore del CSM di Termoli, a cui fa eco il dottor Alessandro Gentile, attuale direttore dello stesso centro di salute mentale, punto di riferimento per tutto il basso molise. Per il Tg ci fermiamo, diamo uno sguardo agli online e ai giornali che troveremo in edicola oggi con la rassegna stampa. Cominciamo dal giornale molise.it che apre sempre con la pagina di Campo Basso e della nuova giunta varata da Maria Luisa Forte con Varra e Madonna che praticamente sono passati nella coalizione di governo, con Varra presidente del Consiglio, l'aggiunta con Dele Fraracci, Marcheggiani, Colucci, Bibiana Chierchia, Cretella, Maio e Trivisonno. Poi la cronaca con l'incendio a Baranello che hanno distrutto un mezzo agricolo e la deviazione eliminata sulla Bifernina tra Termoli e Campo Basso, quella che aggira uno dei viadotti che attraversano il lago di Guardia Alfiera, almeno fino a settembre, dunque traffico più scorrevole soprattutto nei mesi estivi. Andiamo su CBLive, caldo record in Molise, due pazienti al Cardarelli di Campo Basso, anche qui la giunta a Palazzo San Giorgio e poi con le reazioni del centrodestra, il sistema di video allarbe antirapina, un protocollo firmato in Prefettura su Pres Molise Lazio, anche qui il caldo e la rinnovata organizzazione delle aree centrali per quanto riguarda l'assetto di poste italiane con 884 milioni di pil nelle regioni dell'area del centro e poi rintracciato il lituano scomparso il 5 luglio scorso. Andiamo a vedere i principali giornali che troveremo in edicola oggi, cominciamo con la stampa locale, primo piano, decolla l'anatrazzoppa che in realtà non c'è più e poi la sintesi che è circolata molto ieri sul web, Madonna che varrata utilizzando i cognomi dei due consiglieri che sono passati, che hanno attraversato il rubicone, vogliamo dire così, insomma il salto della quaglia come preferite. Nasce Campo Basso Viva, formazione che dà la maggioranza alla forte, Madonna dei Popolari, capogruppo, Varra di Fratelli d'Italia, eletto presidente del consiglio, la foto di Rito con gli assessori che abbiamo già visto, il resto dell'opposizione diserta l'aula e punta il dito contro i transfughi traditori. Nel cassettone lo sport, l'entusiasmo di Braglia, ci divertiremo, il tecnico del Campo Basso rizzetta il patron, obiettivo le prime tre posizioni. E ancora da Isernia, scomparso da giorni, le ricerche si moltiplicano gli appelli del titolare di un ristorante che si è allontanato da casa. Andiamo a vedere la stampa nazionale, cominciamo dal Corriere della Sera. Missili scontro nel governo, Biden fuga di democratici dopo le gaff e i donatori congelano i fondi. Biden ha chiamato Zelensky Putin, rivolgendosi a Kamala Harris, vicepresidente della sua amministrazione, dell'amministrazione americana. L'ha chiamata Trump, insomma un presidente degli Stati Uniti in grande confusione. Zelensky a Meloni, grazie per gli aiuti, la Lega attacca, quelle armi uccidono, batteria USA degli Stati Uniti a Vicenza. E nel taglio centrale le vicende sportive interessano anche il Corriere della Sera perché innanzitutto Jasmine Paolini, 28 anni, terribile tennista, insomma anche piccolina di statura se vogliamo, è in finale a Wimbledon la prima donna italiana a raggiungere questo prestigioso traguardo. E invece Lorenzo Musetti si troverà a dover, insomma dovrà accontentarsi di quello che ha fatto perché è stato sconfitto da Djokovic in tre set in semifinale, dunque per lui la finale è stata preclusa, ma insomma già un grande risultato. Poi la cronaca giudiziaria delitto mollicone, tutti assolti, proteste in aula a Roma, vedremo meglio nel dettaglio sui giornali della Capitale. Andiamo a vedere la Repubblica che parla di assedio a Biden, presidenziali degli Stati Uniti, Obama e Pelosi guidano il pressing sul Presidente, la corsa volge al termine, anche il capo dei Dem al Senato pronto a scaricarlo, l'ipotesi della sostituta a White Mary, il politologo Schneider, solo Barack può fermare Joe e Barack ovviamente è Obama e la vignetta di Altan, Joe Biden è una roccia in mezzo alla strada, è un ostacolo chiaramente. Armi all'Ucraina, la Lega gela Meloni, siamo contrari, scontro nel governo, il vice di Salvini replica la Premier, basta aiuti a Kiev, il carroccio chiede una verifica della maggioranza, sapete che Salvini in Europa, a Bruxelles per essere più precisi, si è schierato con Orban e questa posizione ovviamente ha creato già i primi problemi nel governo Meloni e si preannunciano divisioni, insomma comunque le posizioni sono molto distanti, come titola la stampa, sulla politica estera, Meloni e Salvini, scontro su Kiev, armi all'Ucraina, governo diviso, la Premier fiera dell'invio, la Lega alimenta la guerra, lite sulla scelta di mandare sistemi di difesa antiaerea, Fratelli d'Italia teme la deriva putiniana del vice primo ministro e qui invece in taglio centrale il New York Times incorona il romanzo di Elena Ferrante, è il più bello del nuovo secolo, il libro geniale, così la stampa, andiamo a vedere invece il messaggero di Roma che cambia il tiro del titolo d'apertura e BTP salgono gli acquisti esteri, nel primo trimestre i fondi stranieri hanno speso 42 miliardi per i nostri titoli pubblici, sulle entrate fiscali, ma sul PIL resta la cautela di Banca Italia, la frenata della manifattura e nel taglio centrale c'è la politica estera con le presidenziali negli Stati Uniti, lunedì il possibile annuncio del passo indietro, il piano di Obama per il ritiro di Biden, i finanziatori congelano altri 90 milioni di dollari. Ed ecco qui sul messaggero l'approfondimento, delitto Mollicone, nessun colpevole anche in appello, confermate le assoluzioni per Imottola, la sorella di Serena, questa non è giustizia, a distanza di 23 anni non c'è ancora una verità sull'omicidio, la Corte d'Appello dopo tre ore di Camera di Consiglio ha confermato l'assoluzione per il delitto di Arce, Franco Mottola per la moglie e il figlio, i tre erano accusati di omicidio volontario. Ancora un caso irrisolto nella cronaca nera italiana, il fatto quotidiano, anche il fatto punta l'indice sulla spaccatura Fratelli d'Italia Lega, 7 miliardi e mezzo per i caccia e i missili statunitensi a Vicenza, guerra fredda, il governo acquisterà 24 Eurofighter da 300 milioni l'uno, i 5 Stelle è una follia, Crosetto si impegna anche per altri 8 miliardi in tank Salvini contro Meloni, così si alimenta la guerra, lei conta che votino tutto, è insomma una sorta di braccio di ferro. Allora andiamo a vedere i quotidiani più vicini a Giorgia Meloni che però spostano un po' l'asse della contesa, del contendere e la notizia come vedete sul libero almeno non compare, anzi il nuovo mito del Partito Democratico con la droga in pancia, la campagna Dem per liberare un ragazzo arrestato in Egitto, Boldrini solo poca marijuana, aveva 60 ovoli nello stomaco, volevano un altro caso salis. Qui c'è la Jasmine Paolini, pure dire bellissima è sessismo, una polemica insomma per il titolo della gazzetta su Jasmine Paolini e invece poi la questione Toti che ha annunciato di non volersi ricandidare con tutte le polemiche che ne sono conseguite e come vedete in prima pagina non c'è questa faccenda della politica estera, della posizione diversa sull'Ucraina, anche il secolo d'Italia, a titolo il venerdì nero della sinistra cadono le fake su Tele Meloni. Andiamo allora a venire, l'Italia che aspetta, l'emergenza carceri deflagra a Trieste, un moto dopo la rivolta dei tenuti al Coroneo, Porto Torres simbolo dei rilanci incompiuti, il polo della chimica verde, stenta a decollare e anche il quotidiano della CEI si occupa della strada verso la Casa Bianca, altra gaff per Biden, ma rimane in corsa, in diretta tv il presidente non convince. Nel taglio centrale i migranti, i volti e parole dell'accoglienza nell'hot spot della Croce Rossa, tra gli ultimi arrivati a Lampedusa, il primo bisogno è l'ascolto, anche avvenire. Non parla di politica interna che invece il manifesto affonda così crisi identitaria, il titolo del quotidiano comunista con Meloni e Salvini, in prima pagina divisi sulla prossima presidenza degli Stati Uniti, divisi in Europa tra gli alleati Meloni e Salvini, scontro a tutto campo, ieri nuova offensiva leghista sulle armi a Kiev e un attacco al cuore della propaganda di governo, la RAI. E poi Biden quasi fatta per la tregua, annuncio del presidente degli Stati Uniti, ma Netanyahu, Rema Contro, nuova strage di umanitari a Gaza, parliamo di conflitto di Medio Oriente, ma il derby europeo patrioti atlantisti è l'approfondimento di Andrea Colombo. Dunque chiudiamo la carrellata dei giornali con il sole 24 ore che invece si occupa di banche, gli utili vanno oltre le stime ma i tassi alti aprono le prime crepe, parliamo degli Stati Uniti, trimestri e mercati, JP Morgan, Citigroup e Wells Fargo scivolano dopo i risultati di bilancio, le borse invece continuano a salire con la prospettiva dei tagli ai tassi di interessi. Per Banca Italia invece l'economia va avanti piano, il CSC, il Centro Studi di Confindustria, l'industria debole, la congiuntura, crescita stimata allo 0,6% in prospettiva investimenti verso il rallentamento. Inusuale foto centrale del quotidiano economico di Confindustria con Taylor Swift, la star della musica americana, oggi e domani allo stadio di San Siro, annunciata in pompa magna e anche dal sole 24 ore, il fenomeno Taylor Swift fa muovere anche il PIL, la butta sulla economia, ovviamente il quotidiano della Confindustria. Allora, la gazzetta dello sport, vai Jasmine, Wimbledon alle 15, Paolini in finale, tra lei e la storia c'è la Creicicova, Musetti cede a Djokovic, ovviamente tutti a tifare per la italiana a Wimbledon, il calciomercato con la notizia più importante, il Milan vuole due bomber, Morata e c'è di più, il titolo della gazzetta, la parte centrale della gazzetta riporta la trattativa, pronti quattro anni per lo spagnolo, atteso dopo la finale dell'europeo, il diavolo tenta il sorpasso sulla Juve per avere Abraham dalla Roma e la foto nella parte centrale della pagina è proprio quella della punta giallorossa. Inzaghi facci il bis e il coro da Mazzola Bergomi per l'Inter, il bis ovviamente dello scudetto, e infine Juve belli di papà, il portoghese Francisco Conceisau, figlio dell'ex giocatore della Lazio oggi in panchina, dopo Turam i bianconeri puntano sul figlio di Conceisau e intanto Sule, il centrocampista argentino, proprietario della Juve, che ha giocato con il Frosinone quest'anno dice di sì all'Eister in Premier. Su questa notizia chiudiamo anche la rassegna stampa di questa mattina dandovi appuntamento al Tg delle 14 da parte mia e di tutta la nostra redazione grazie per essere stati con noi e l'augurio di una buona giornata.